ciao belli ben ritrovati sul mio canale e davanti ci troviamo di nuovo project cars situazione come quella del video precedente di oggi dove abbiamo trovato un po di varie delle camere e visioni diverse quindi vi preparo subito per la nuova gara di campionato vediamo un po vi dico di anticipo già che ho mai passato le gare del campionato della cateram perché le odio quindi non mi piacciono proprio guidarle non mi piacerebbe nemmeno farvi farvi vedere il gameplay perché tanto non mi divertirei invece le historic tga si molto le oratrofie molto molto bello va bene solito schema io parto per le prove libere faccio un po di prove libere giusto per vedere un po la macchina sul tracciato e ci rivediamo per le qualifiche a dopo ciao rieccoci ragazzi eccoci qua ho fatto le prove libere adesso ci buttiamo in qualifica vediamo che succede spettacolo spettacolo queste macchine qua danno veramente un sacco di soddisfazione finalmente attenzione 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 dove va oh la fa la deviazione è lunga la voglia dai 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 bisogna ricordarsi di far scaldare parecchio bene le gomme qua perché queste macchine qua girano che sembra un piacere usciamo sciolti dalla corsia dei box abbiamo uno che arriva più veloce non ci togliamo subito va bene passa passa tanto noi stiamo scaldando passate tutti all'interno mi raccomando finché non siamo almeno sui 50 60 gradi di gomme non possiamo sicuramente buttarci per un tempo guarda guarda come si sportellano quella si bisogna stare un po tranquilli qua staccata funesta qua ci sarà da fare poi attenzione vedete come come lavora di controsterzo subito bene siamo sui 60 gradi direi che il giro inizia cioè il giro subito dopo questo qua di avvicinamento al giro lanciato possiamo già provare a buttarci per il tempo anche se non è al massimo è di temperatura il top sarebbe sugli 80 gradi eh proviamoci hanno sfruttato anche un pelo di di scia tiriamo questa terza tratteniamola un pelo di controsterzo via non siamo a gas pieno ancora eh fino a che abbiamo questo qua davanti non riusciamo a fare un tempo degno bisognerà sicuramente togliersene un po' dai piedi eh proviamoci uno l'abbiamo tolto eh ci buttiamo all'interno proviamo a sportellarlo no nella regolarità siamo troppo regolari noi no 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 mi ha fatto un giraccio è la colpa di questi qua tutto sotto tutto sotto bisogna provare a rifare un altro giro perché non so se basterà questo tempo eh poi ora vediamo ancora due curve vediamo 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 eh 1.44 ci vorrebbe non va bene 1.45 facciamone un altro sfruttiamo tutta la pista possibilmente vai vai alla grande alla grande vedete queste macchine danno una libidine che non avete idea forse non riesco a rendervi l'idea anche riprendendomi tutto il possibile ma è una cosa fighissima ragazzi cioè si però un tossico sembra veramente un toxicus beh continuiamo a stabilire record su record va bene direi che questo qua abbiamo abbassato parecchio perché non c'è più la bagarre quindi l'abbiamo anche lasciato un po' indietro direi direi che tra un paio di episodi anche potrei aumentare un pochettino di nuovo la la difficoltà non lo so vediamo dai ok ok il 44 mi piace ragazzi allora ci fermiamo qua direi che come qualificazione siamo a posto ok e ci buttiamo sicuramente alla fine della sessione vediamo come siamo rimasti no no ci hanno buttato al sesto posto ragazzi 1.44 porca puttana 5 secondi di meno 5 secondi di meno proviamo con la gara proviamo io non so come andrà a finire questa gara qua eh non lo so ragazzi io non assicuro niente vediamo un po' come va vai buona la staccata della frizione bella la partenza bella la partenza siamo a gomme sugli 80 gradi quindi siamo proprio al lusso eh dai 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 che c'è un po' di ansia qua eh un po' di ansia da partenza eh eh il primo diciamo che è la tarella eh cerchiamo di recuperarlo nelle uscite perché nelle staccate mi sarà dura eh portiamo all'errore non ce l'abbiamo fatta eh tre giri con questo qua così sarà duri eh tentativo all'interno attenzione attenzione alla drappata ecco diciamo che ci dà un po' di filo da torcere adesso mangia merda tradimento mettiamo sotto sterzo qua cerchiamo di farci subito un po' di strada in uscita ma la vedo dura eh fuori dalla scia dai che allunga dai che allungo dai che ha perso attenzione alla drappata eh va bene va bene l'abbiamo passato con un po' di difficoltà ma l'abbiamo passato attenzione qua perché ci rientra sotto eh guarda 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 l'infame attenzione eh oh scusa attenzione eh guardate guardate com'è dietro attenzione attenzione veramente attenzione la portiamo un po' di spita almeno ce lo stacchiamo un po' perché sennò qua è veramente dura eh bello qua l'ingresso eh bello qua l'ingresso eh tutto sotto uh spalanchiamo spalanchiamo via via questa è una gara a cardiopalma eh per me mi sta prendendo veramente benissimo stare attenti e se mi giro sono finito eh domani chi lo sente poi Bruno vai è questa che ancora non ho capito bene perché mi porta sempre a sbagliare facciamo un po' tutte e due queste qua eh bella leggera ma attendiamo la terza che è meglio se no faccio un danno qua eh l'ultimo giro e chi ce lo vuoi rovinare e chi ce lo vuoi rovinare eh dentro dentro a cannone spaccamartello con sta escort no la escort la sierra cosua attenzione qua paletti come se ne fossero finti minchia come se ne va oh ragazzi da panico eh uh bella lì bella lì bella lì attenzione il controsterza è sempre dietro la porta qua eh da morireee con le ruote bloccate ho fatto troppo un errore di staccata qua eh diciamo che l'usura delle gomme essendo abbastanza reale il gioco potrebbe essere anche a tre giri va giù spettacolo spettacolo ahhh ahhh grande grande grazie ragazzi grazie 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 salutate la camera allora allora ragazzi vi ringrazio per aver visto il video ovviamente siamo arrivati i primi 25 punti ovviamente la prima gara del campionato relativo all'historic eurotrophy primi diciamo a un buon tempo non è male Andrea Cosentino un altro italiano ci ha fatto il culo secondo eh terzo però ha fatto nelle qualifiche il miglior tempo eh è partito primo in classifica in griglia allora niente 25 punti ritorniamo alla bacheca questa gara l'abbiamo finita e l'abbiamo fatta abbastanza bene spero che vi siano piaciute le novità del video specialmente tutti questi interfacciarsi di telecamere e mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel mi piace mi raccomando è importante un pollicione in su iscrivetevi al canale e condividete mi raccomando eh non lo dico più eh il prossimo appuntamento di project cars è domani ciao ragazzi ci vediamo alla prossima A BALLI U U U U U Grazie a tutti